...sistema musica. Questa sera inauguriamo Estival, nella sua decima edizione, il festival di musica estiva della città di Chivasso. Sono dieci anni che appunto cerchiamo di portare come associazione, come sistema sulla città, una proposta eterogenea, ma anche cercando di preservare il più possibile la qualità. Questa sera abbiamo una formidabile orchestra di 20 elementi, la Nazi Swing Band. Siamo molto onorati di averli qua. Prima di qualsiasi cosa vorrei però invitare l'affessore alla cultura Giulia Mazzoli, in quanto se siamo qua e se possiamo inaugurare, grazie a lei. Io ringrazio ma forse sono dei complimenti esagerati. È la decima edizione ma purtroppo abbiamo avuto una pausa l'anno scorso, non dipendente dalla mia volontà e neanche dalla volontà dell'amministrazione, ma noi ci eravamo insediati il 2 di giugno e avevamo trovato il bilancio già approvato dal commissario, che non aveva assolutamente previsto dei fondi per la cultura. Avevamo pochissimo per la cultura, per cui abbiamo dovuto veramente stringere e dati i tempi che era già il 2 giugno, quindi organizzare il 2 giugno una stagione estiva era praticamente impossibile. E poi proprio la mancanza di fondi ce l'ho impedito. Quest'anno, insomma, scattato un anno dall'amministrazione del Sindaco Ciuffreda, io ci ho tenuto in modo particolare che ci fosse un riconoscimento anche all'aspetto estivo e a Estival, che appunto aveva per 10 anni agliettato le vostre stati. Per cui io vi auguro veramente un'ottima estate, abbiamo un clima anche molto favorevole quest'anno, speriamo che duri così, con delle giornate belle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.